ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi vi parlo di un oggetto particolare molti sanno cos'è e molti non sanno cos'è vi parlo di una termocamera è una camera che serve a inquadrare a livello termico ciò che viene ripreso quindi non vediamo un'immagine come siamo abituati col telefono fotocamera eccetera ma vediamo un'immagine termica quindi vediamo le zone più calde le zone più fredde vengono usate in ambito professionale vengono usate da appassionati per varie tipologie di cose nell'elettronica per monitorare le batterie insomma in un sacco di campi oggetti che normalmente costano tantissimo oggi ve ne faccio vedere uno che in proporzione costa pochissimo ma soprattutto che è molto versatile perché si tratta di un accessorio ad aggiungere al vostro smartphone porta type c compatibile solo con android questo prodotto che vediamo oggi per trasformarlo in una termocamera adesso la specchiettiamo proviamo a collegarla al telefono vediamo se funziona e come funziona eccola qui termocamera top dom tc view attacco usb type c compatibile con android solo camera ad alta risoluzione 256 x 192 temperatura in tempo reale compatibile con android dice anche windows avviso di temperatura anomale range da meno 20 gradi a più 550 gradi ottimizzazione dell'immagine personalizzabile apriamo una piacevole sorpresa perché arriva già dentro una custodia rigida dunque per pc anche abbiamo la possibilità di collegarci alla type c scaricando dal sito topton a questo indirizzo l'app che si chiama tc view su android bisogna andare su google play e cercare tc 001 e eventualmente cercare sul sito top dom la pk per installare a mano l'app tc 001 contenuto della confezione montaggio installazione il cavo per connettersi al pc niente di particolare ci dirà tutto quanto nell'app mettiamo via scatole scatoline è un prodotto che mi interessa parecchio e ve lo devo dire wow beh dai un bel case semi rigido con la possibilità di tenerlo in mano una buona cerniera insomma niente male termocamera con protezione per non sballottarla vediamo cosa abbiamo interessante un panno per pulire la lente un interessante cavo type a femmina type c questo non è niente niente male se non avete la type c sul pc potete collegarvi con questa ed ecco qua la camera piccola impressione di solidità niente di particolare bisogna scaricare l'app e metterla dentro play store app tc 001 la installiamo app installata l'apriamo diamo tutti i consensi del caso siamo d'accordo con non si sa cosa diamo tutti i consensi attenzione se non viene rilevato dopo che il dispositivo è stato collegato al telefono cercare l'opzione otg da attivare nelle impostazioni di sistema e attivarlo non collegato proviamo subito a collegarla chiaramente funziona in tutti e due i versi iniziamo a montarla nel verso convenzionale e no bisogna togliere la cover ne approfitto per dare una pulita al mio amato pixel 6 che è tanto bello senza cover ma l'ho visto solo quando l'ho tirato fuori dalla scatola montiamo la termocamera consentire apri sempre tc 001 quando si collega la camera usb ok aprire l'app tc 001 quando si collega la camera si collegato sembra andare tutto non avevo altissime aspettative con un pixel ma invece funziona bene termografia monitoraggio temperatura galleria informazioni personali andiamo direttamente su termografia wow funziona ragazzi quindi cosa stiamo inquadrando stiamo inquadrando la mia mano la mia mano dice che è a 34 gradi che è forte le prove le facciamo poi dopo vediamo un po cosa abbiamo nel menu abbiamo la possibilità di scattare una foto la possibilità di determinare la temperatura di un punto tracciare una linea un piano delimitare un'immagine eliminare insomma un po di opzioni che bisogna smanettarci un po doppia luce trascina l'immagine pizzica per zoomare vediamo un po quindi abbiamo la possibilità di vedere nel riquadro quello che inquadra la fotocamera normale e quello che inquadra la termocamera carino trasparenza ok quello che possiamo determinare in trasparenza di questa funzione possiamo anche ingrandire abbiamo anche la funzione zoom regolazione possiamo correggere i colori con cui vengono visualizzate le zone calde fredde ma normalmente si tiene sempre questa che è la modalità azzurro zona fredda che poi tende ad andare sul viola arancione eccetera fino arrivare a questo giallo fuoco quando c'è qualcosa di più caldo nelle impostazioni possiamo lavorare sulla barra delle temperature determinare contrasto aumentare o diminuire i dettagli qui possiamo riconoscere automaticamente la temperatura da meno 20 a 150 o da 150 in su noi in questo caso non andiamo su grossissime temperature lavoriamo tranquillamente da meno 20 a 150 torniamo indietro monitoraggio temperatura serve per tenere traccia di temperature dove ci saranno anche dei record e dove genera delle immagini galleria sono le immagini che salviamo adesso facciamo una prova guardate quando lascio il calore sul piano si vede la mano impressa sul piano vorremmo mettere il palmo qua vedete che mi viene tutto il palmo rileva la temperatura più calda anche sul piano quindi fin qui fantastico salviamo anzi facciamo una bella cosa diamo una bella manata calda facciamo una foto ok torniamo indietro andiamo in e vedete che abbiamo trovato la foto vediamo se questa foto la troviamo anche nella galleria normale certo praticamente la troviamo insieme alla galleria principale del telefono almeno in questo caso torniamo l'applicazione è fantastico non pensavo usciamo la chiudiamo togliamo la termocamera con attenzione ecco mi sa di molto delicato il connettore quindi massima attenzione vediamo se la usiamo frontalmente se funziona si apre automaticamente l'app facciamo una termografia alla mia faccia ok funziona anche al contrario vedete che mi sta termografando cosa cosa devo dire funziona tutto fa quello che deve fare la tiriamo via perfetto fin qui tutto bene vi dico mi dà già delle ottime impressioni perché dovete tener conto che avere un oggetto del genere da tenere a portata di mano che non ha una batteria ma che vive con la batteria dello smartphone è molto comodo perché all'occorrenza la tirate fuori la inserite e fate quello che dovete fare sembra funzionare molto bene tra l'altro quello che bisogna fare è una comparazione con un prodotto professionale per vedere se quello che inquadra i valori che scrive sono attendibili non resta che fare un confronto con una termocamera professionale questo è un oggetto che ai tempi pagai se non sbaglio 2000 euro non starò ad entrare tanto nelle specifiche funzioni di questa ma proverò a fare un confronto giusto per vedere che temperature rilevano ok accendiamo la flir mentre si avvia prepariamo anche la termocamera top down allora nella parte più calda di quell'inverter che sto inquadrando più o meno nello stesso modo la flir mi segna 32 e mezzo mentre l'app sul top down mi segnala 32 2 ok magari scattiamo una foto quindi salvataggio immagine con la mia termocamera salvataggio immagine col top down poi ci spostiamo ci spostiamo vedete che qui abbiamo un phon una pistola della cola caldo appesa che me la rileva calda come temperatura mi segna 34 gradi nel punto più caldo quello bianco il punto più caldo con la top down mi segnava 34 e 9 quindi insomma siamo abbastanza in linea spostiamoci ad esempio in un quadro elettrico ok inquadrando un quadro elettrico abbiamo il punto più caldo che viene rilevato come 28 gradi se vado inquadrarlo con la flir siamo a 29 insomma siamo abbastanza in linea ok la differenza è che con l'app fa tutto in automatico mentre con la termocamera ho una messa a fuoco manuale insomma coi valori siamo lì sto lavorando sto lavorando mare perché direi tanta roba non costa 100 euro non costa 20 euro costa circa 280 euro vi lascio il link in descrizione è una comodità funziona bene perché secondo me può essere usata anche in ambito professionale perché no abbiamo visto che i valori gradi sono lì ha un'ottima inquadratura mettere fuoco in automatico salva le foto ha un sacco di altre opzioni quindi porca miseria ripeto non costa due lire però in proporzione ad esempio la termocamera che avete visto comunque costa molto meno se vi serve ve la posso consigliare unica cosa tra i pro e contro di prove ne ho detti tanti mi fa molta paura questo connettore types in quindi dovete fare molta attenzione e trasportarla sempre nella sua custodia chiaramente se vi cade il telefono con questa montata dentro molto probabilmente la buttate se vi è piaciuto il video un bel like mi raccomando non costa niente gratis iscrivetevi al canale mi aiutate a farlo crescere noi ci vediamo al prossimo video prossima diretta se passate il negozio mi trovate a san benigno canavese a state all'occhio perché potrebbe finire nel mio negozio ebay ciao da massi d'attori